E' un brano che ho scritto io qualche tempo fa e questo brano si intitola For a Film perché semplicemente lo scrisse una mattina e in pomeriggio vedi questa bellissima intervista che Gianni Minà faceva a Pino Daniele e Massimo Troisi l'ho voluta dedicare a questi due grandi eroi e soprattutto mi colpì il fatto che Gianni Minà chiedeva a Massimo Troisi da dove lui trasse ispirazione per fare i suoi film e lui rispose che gli bastava ascoltare un pezzo di Pino Daniele allora io ho scritto questo brano, racconto sempre questa storia magari c'è un regista in sala devo dire che non è ancora successo niente però io ci confido e ci spero per cui se conoscete registi e volete registrare questo pezzo e farvelo ascoltare si intitola For a Film grazie a tutti 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 grazie a tutti